Musica Incontriamo Raissa e Leonardo, una giovane coppia, che spera che al più presto possa festeggiare il matrimonio insieme ad amici e parenti. Ovviamente capiamo la preoccupazione di tutti gli sposi perché come noi giustamente non sanno che pesci prendere, non sanno come comportarsi perché ancora ad oggi non abbiamo nulla di certo, però speriamo veramente nel meglio. Musica Musica